Nella sua provincia di Brescia ci sono più di 60 compagnie bancarie, ma allora i bresciani che criteri utilizzano per scegliere la loro banca? Noi siamo qui per scoprirlo. Lei utilizza prodotti bancari? Sì. Eh sì, li utilizzo. È importante per lei avere figlie ovunque si trovi? Sì, per comodità, possiamo dire, in modo tale da raggiungere sempre la banca, anche gli sportelli, sempre utile per prevenienza, emergenza e tutto. Sì, perché alla fine sono comode per chi magari si trova nel momento del bisogno che gli serve del contante, almeno può prelevare senza pagare commissioni. Preferisci utilizzare l'internet banking o essere seguito personalmente? Internet banking, sì. Evitare code? No, per il tipo di servizi di cui ho necessità l'internet banking è più che sufficiente. Io essere seguita personalmente, perché almeno potendo parlare direttamente con la persona per problemi e tutto, per me è più comodo. In base a cosa ha scelto la sua banca? Per comodità. Era vicino a casa e quindi era comoda. Tramite conoscenze so che è affidabile, la utilizzavano già i miei familiari, i amici. Ora elencheremo 5 caratteristiche che una banca dovrebbe avere. Una banca dovrebbe essere comoda, economica, solida e contribuisca al territorio con maggiori vantaggi. Beh, direi offra maggiori vantaggi. Comoda. Comoda. Il risultato alle nostre sondaggi somministrate a 100 bresciari dai 20 ai 40 anni mostrano che poco meno della metà ritiene importante la presenza di figliali e il rimanente non lo trova del tutto necessario. Infatti il 44% preferisce avere un rapporto personale in banca, il 38% si affida all'internet banking e il restante è in parziale in questa scelta. Inoltre risulta che quasi la metà ha scelto la propria banca su consigli di un familiare, circa un quarto per comodità e il resto per i vantaggi che essa offre. Infine abbiamo constatato che i brisciani prediligono una banca solida e che offre vantaggi. In secondo luogo dovrebbe essere comoda, economica e infine pretendono che abbia un occhio di riguardo sul territorio.